L'incrocio tra la qualità sicura, il risparmio e la promozione del settore. Tutto ciò è Restiamo Umani, la manifestazione per l'avvio del mercatino di prodotti biologici tipici e artigianali promossa dall'Associazione La Zafarana, evento che si terrà sabato mattina a Tortore Centro Storico. Quest'iniziativa vuole valorizzare le produzioni di prodotti biologici del territorio, favorevole sia per coloro i quali decideranno di parteciparvi, ovvero i consumatori che potranno lì trovare prodotti, ma anche coloro i quali parteciperanno, ovvero i produttori che vedranno valorizzata la propria iniziativa e anche i prodotti stessi. Con Restiamo Umani si vuole valorizzare qualità e salubrità dei prodotti, favorendo il rapporto con i consumatori. All'interno del mercato si potrà trovare frutta di stagione, prodotti dai produttori locali e dalle aziende agricole che prenderanno parte al mercatino, salumi, formaggi tipici come ad esempio il formaggio primosale, il formaggio stagionato, il miele, il vino e altri prodotti come le marmellate fatte con prodotti biologici del territorio. Un mercatino ad impatto zero. Nasce in Senua la Zafarana di Tortora che ha sempre portato avanti il discorso del chilometro zero, dei prodotti tipici e artigianali, delle unicità locali, che va a contrapporsi alla grande distribuzione perché nel momento in cui si è fermata la grande distribuzione si è perso un po' il contatto diretto con il produttore che invece era una cosa molto utile.